I rifiuti sono rimasti a terra, l'indifferenziato portato in strada lunedì sera dai cittadini di Nocera Inferiore, i cartoni lasciati fuori dai negozi nei pomeriggi di lunedì e martedì e il risultato della protesta dei dipendenti della Nocera Multiservizi che hanno deciso di non effettuare l'orario straordinario necessario per completare il lavoro di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Poi si è scoperto che la proclamazione non era nota ai rappresentanti sindacali. La notizia si è appresa ieri pomeriggio durante l'incontro che l'azienda aveva convocato per affrontare alcune criticità che il 28 settembre scorso le organizzazioni sindacali avevano richiesto. Insomma i lavoratori in maniera autonoma avrebbero deciso di incrociare parzialmente le braccia mettendo in difficoltà la raccolta dei rifiuti. L'azienda ha provveduto ad informare la prefettura di quanto accaduto mentre ha avviato un'indagine interna per individuare i lavoratori che hanno deciso di proclamare uno stato di agitazione definito anomalo dall'azienda e che probabilmente saranno raggiunti anche da sanzioni disciplinari. La conseguenza da ieri è sotto gli occhi di tutti. In strada sono accattastati quintali di rifiuti tra indifferenziato e cartoni. La Multiservizi ha annunciato che nelle prossime ore avvierà l'attività di riassetto eliminando i rifiuti dalle strade. Nel frattempo l'amministrazione comunale, socio unico della Nocera Multiservizi, attraverso il servizio Ambiente ed Ecologia ha inviato una nota di diffida all'azienda per adiempere al servizio di raccolta di carti e cartone dalle utenze commerciali. La riunione che i sindacati avevano chiesto a fine settembre e che si è tenuta ieri ha portato in evidenza alcune criticità nel rapporto tra lavoratori e Multiservizi. Si parla di impossibilità di dialogo e mancato rispetto degli accordi integrativi sottoscritti e costantemente violati dal datore di lavoro, si legge nella nota. In particolare i dipendenti lamentano l'omesso pagamento del ticket mensa, i ritardi nel pagare le quote di cessione del quinto dello stipendio alle finanziarie che hanno prestato soldi ai lavoratori, carenza di organico e verifica della pianta organica relativa alle mansioni e i livelli dei dipendenti, fino al mancato acquisto del vestiario di lavoro invernale. Problema questo superato perché ieri è stato evaso.